Terza giornata del gruppo G di Europa League, sta per iniziare Roma-Slavia-Praga. Mocchio Bove, servito al limite Bove, pensa al tiro, lo fa! Mamma mia, Edo! Mamma mia, Edo! Un gol pazzesco! In avanti sui Sciaraui, di prima il pallone, gli ritorna tre piedi e si invola, è partito Stefan, si accentra, taglio di Lukaku servito, in area Lukaku! Il gol di Romelu! Roma 2, l'aria 0. Solo palla dentro, torna in area di rigore, il tiro, Miele, Svilarra, la para. Alla limite il tiro, Svilarra, calcio d'angolo. La Celic a Lukaku, alla limite Lukaku, si accentra il tiro, fuori! Finta e controfinta, sta per entrare in area, c'è anche Sciaraui servito al limite, tiro di prima, traversa! Lukaku ha superato, va riconquistar palla, anzi no, attenzione, scena anzi nel rigore, è solo il tiro fuori, mamma mia, questo è divorato. Avanza al limite il tiro, Svilarra, la blocca alla sua destra. Palla profonda, in zona Belotti, che la mette giù bene, in trenare a destra, Belotti ancora, Belotti, Belotti la parata! Fizca il signor Escas, vince la Roma, Roma 2, Slavia Praga 0!